Diventerà un centro polifunzionale per servizio alla famiglia, l'ex scuola elementare di Vaccara a Gualdo Tadino e per la sua ristrutturazione sono in arrivo fondi stanziati direttamente dal governo a valere sulla legge del Family Act. In sostanza l'edificio di proprietà comunale, ma da tempo in disuso, sarà riconvertito a centro per le famiglie con lo scopo di promuovere azioni di supporto a situazioni multiproblematiche. A Gualdo arriverà 1.103.000 euro finalizzati all'adeguamento sismico dell'edificio, all'efficientamento energetico e all'allestimento di laboratori. La struttura è stata pensata come un centro educativo polifunzionale per il bambino e la famiglia. Nell'area esterna saranno allestiti spazi per le attività ludiche e laboratoriali all'aperto. Al piano terra verrà predisposta la zona accoglienza dei bambini e genitori e verranno collocati armadietti e predisposta la zona guardaroba. Sono altresì presenti i servizi per disabili e due grandi stanze da adibire ad attività ludico-creative e una dedicata all'allettamento e al sonno. Il servizio sarà rivolto ai bambini dai 0 ai 12 anni di età e accoglierà sia i bambini senza accompagnatori sia i bambini accompagnati. In Umbria oltre a Gualdo Tadino sono arrivati fondi dal Family Act anche per Castiglion del Lago, Porano, Città di Castello, Umberti, De Baschi, Terni, Allerona e Montone. Soddisfatto il sindaco Massimiliano Presciutti per la riqualificazione di un'area abbandonata ma anche soprattutto per l'attivazione di un servizio sociale pensato per le famiglie.